Sto lasciando la cese ancora Vai, vai, vai in su, vai in su, bravo Vai, 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 vai in su, bravo Vai, vai, vai in su, bravo Perché va dentro ancora? Si lì torna indietro ancora di là Dov'è andare su di Ritz Sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.